Capitolo 28. Piovono giocattoli. Gary si bloccò. Lo abbracciavo talmente forte che iniziò a singhiozzare. Cosa sta succedendo? Mentre allentava la presa sulle mie spalle e gli tremava la voce. Era così sorpreso che forse avrei potuto costringerlo a toccare terra con un ginocchio, ma in qualche modo capii che sarebbe stata la mossa sbagliata. Mi limitai a continuare ad abbracciarlo. Non ho mai conosciuto i miei nonni mortali. Suppongo che Crono sia tecnicamente mio nonno, ma cerco di non pensarci. Però immaginavo come sarebbe stato conoscere i genitori di mia madre. Erano morti quando lei era molto giovane. In effetti, quando era accaduto, erano più giovani di lei adesso. La cosa mi mandava un po' fuori di testa. Avevano la stessa risata gioiosa di mia mamma. Era da loro che aveva ereditato la passione per la cucina e la scrittura? Anche loro canticchiavano camminando sotto la pioggia senza ombrello? O era una cosa che faceva solo la loro figlia? Se non fossero morti tanto giovani, avrebbero potuto stare accanto a mia madre negli anni più difficili. Avrebbero potuto conoscere me. Forse Geras non era poi così malvagio, nonostante le sue scelte discutibili in fatto di moda, come si deduceva dal perizoma. Mentre lo stringevo, immaginai di abbracciare i miei nonni e di accogliere allo stesso tempo l'idea di diventare vecchio, riandando con il pensiero a una vita fantastica. Beh, ce l'abbiamo fatta. Sì, un giorno moriremo, forse presto, ma abbiamo avuto delle belle soddisfazioni, no? Mi vidi tenere Annabeth per mano, entrambi rugosi e fragili, e io che ancora la guardavo negli occhi e l'amavo con la stessa intensità di sempre. Immaginai di arruffare i peli grigi di Grover addormentato su una panchina in un parco, dicendogli, ehi, svegliati G-Man, è pronto da mangiare. Ci immaginai seduti insieme intorno a un tavolo a condividere un buon pasto e a ridere di tutte le cose folli che avevamo fatto nella nostra vita, inclusa quella volta in cui avevo sfidato a wrestling il dio della vecchiaia, a Washington Square Park. Ignorai l'odore di stantio, la pelle cascante, le macchie dell'età e i capelli strani di Gary, e lo abbracciai come se fosse un vecchio amico. Un amico molto vecchio, andato ben oltre la data di scadenza. Era comunque meglio dell'alternativa. Vivere freneticamente, morire giovane e lasciare un cadavere bello da vedere è una filosofia di vita che sembra figa, finché non è il tuo cadavere quello di cui si parla. Gary mi spinse un'ultima volta contro il palo da tetherball, ma credo che lo facesse senza metterci il cuore. Si rilassò, mi diede dei colpetti affettuosi sulla schiena, poi mi posò la testa sulla spalla. Cominciò a tremare. Lo udì tirare su con il naso una sola volta. Il dio stava piangendo. Mi stava spalmando moccio di vino sulla spalla? Non lo capì, però non lo spinsi via. Guardai furtivamente Annabeth e Grover. Il satiro sembrava sbalordito, ma sapientona stava abbozzando un sorriso. Ovvio che aveva capito quello che stavo facendo. Riconosceva al volo una buona strategia. E quel luccichio di apprezzamento nei suoi occhi era lo sguardo più bello che potessi mai sperare di vedere. Significava che era orgogliosa di me. Alla fine Gary si liberò dal mio abbraccio, arretrò di un passo e mi squadrò di nuovo. Aveva gli occhi inondati di lacrime tra il marrone e il rossastro, la mandibola che gli tremava. Non riuscivo a capire se volesse colpirmi o abbracciarmi ancora. Perché? domandò. Ho pensato che dovrò lottare con te per tutta la vita, risposi. E mi sta bene. Volevo solo che tu lo sapessi. Trassi un respiro tremulo. Ma se sei davvero convinto che la mia vita debba concludersi adesso, possiamo continuare a scaraventarci in giro per il parco giochi. Gary grugnì. La sua espressione era un misto di sorpresa, irritazione e forse un briciolo di rispetto. Tecnicamente ero io che scaraventavo te, rimarcò. Stavo vincendo. Non reagì. Mi sembrò la scelta più intelligente da fare. Nessuno abbraccia mai la vecchiaia, bufonchiò il dio. Sai quando è stata l'ultima volta che ho ricevuto un abbraccio? Fissò il cielo come se stesse cercando di ricordare. La sua espressione triste mi richiamò alla mente le persone anziane che avevo visto nelle case di riposo. Guardavano in lontananza, tentando di capire dove era finita la loro vita, dove erano i propri cari, come avevano fatto a ritrovarsi così soli. E adesso? chiesi. Gary corrugò la fronte. La vecchiaia è paziente. È una cosa che detesto di me stesso, ma non ho quasi mai fretta di porre fine alla vita di nessuno. E hai ragione. Porre fine alla tua vita adesso, a sedici anni. Diciassette, lo corressi. Grover si schiarì la gola. Chiudi il becco. Diciassette, mi fece eco Gary. Sembrava che il numero avesse un sapore amaro sulle sue labbra. No, non è giusto. Non è la tua ora. Inclinò la testa, esponendo le macchie sul viso alla luce del mattino. Tu non berresti mai dal calice, vero? No, risposi. Voglio vivere una vita intera, sai? Anche le cose più toste. E poi ho visto quello che succede alle persone che vengono trasformate in divinità. Pensai al povero ganimede, congelato come uno splendido adolescente, ma bloccato per sempre con tutta la sua ansia, l'insicurezza e le sue paure. No, grazie. Interessante. Gary studiò i miei amici, poi si voltò di nuovo verso di me. Non vedo l'ora di lottare con te per molti anni a venire, Percy Jackson. Non pensare che ci andrò piano solo perché adesso mi hai fatto una buona impressione. Continuerò a esercitarmi, gli promisi. Farò un mucchio di parole crociate. Gary fece una smorfia con le labbra. È un bel momento, non lo rovinare. Schiocò le dita e il calice degli dèi apparve, fluttuando scintillante nell'aria in mezzo a noi. Mancava solo un coro di angeli a dare un ultimo tocco. Prendilo, disse Gary. Suppongo che debba stare sul monte Olimpo, tra quegli idioti che hanno già voltato le spalle alla vecchiaia. Tu, Percy Jackson, mi fai sperare che non tutti siano come loro. Tirò su con il naso prima di borbottare. Parole crociate. Poi si dileguò in una nuvola grigia di borotalco. Riuscì ad afferrare il calice di ganimede prima che finisse a terra. Era pesante come una palla da bowling, il che non era l'ideale per le mie braccia indolenzite. Hai, gemetti. Ce l'hai fatta! Grover fece un balletto caprino di sollievo. L'abbraccio? Quello è stato davvero rischioso. È stato perfetto, disse Annabeth. Avanzò verso di me e mi baciò. Sai una cosa? Credo che sarai uno splendido vecchietto. Spero che un giorno avremo l'opportunità di scoprirlo. Però sono felice che non sia oggi. Sorrisi. L'odore di Gary perdurava sui miei vestiti. Ero stanco e dolorante e avevo la sensazione di essere invecchiato di qualche decennio. Ma perduravano anche quelle immagini mentali. Le immagini di me che invecchiavo con le persone che amavo, con i miei migliori amici. E grazie a questo capii che potevo affrontare gli acciacchi e i dolori. Forse era uno scambio che valeva la pena. Che ne dite se mandiamo un messaggio iride a Ganimede, sollevai il calice. Non voglio tenerlo nel mio armadio fino a domenica. Sembrava che Annabeth stesse per dire qualcosa, ma proprio in quell'istante dal cielo piove un hula hop. Era rosa, con strisce e lustrini azzurri incorporati nella plastica. Toccò terra con un bel rumore tintinnante, fece un balzo di sei metri verso l'alto, poi ricadde giù e rotolò per il parco giochi, fermandosi traballando come una moneta lanciata in aria. Anche in una mattinata strana, sembrò una cosa strana. Eh, feci. Annabeth si avvicinò al hula hop. Lo spinse leggermente, dato che non esplose né si trasformò in un mostro, lo raccolse. Guardò le nuvole, ma dal cielo non piove nient'altro. È un simbolo di Ganymede. L'hula hop, chiese Grover. Beh, il cerchio. Da migliaia di anni è un giocattolo per bambini. È un simbolo della sua eterna giovinezza. Rabbrividì. Sì, ma questo non rende il rapimento di Zeus meno inquietante. Secondo voi, Ganymede ha lanciato l'hula hop dal Monte Olimpo? Visto che di questi tempi l'Olimpo si librava sopra l'Empire State Building, non era un'idea folle. Un bel lancio divino poteva probabilmente raggiungere Washington Square Park senza problemi. Ma perché? Annabeth esaminò l'hula hop più da vicino. Un attimo. Trovò un pezzetto di carta arrotolato in un punto. Io avevo supposto che fosse un'etichetta o qualcosa del genere, ma Annabeth lo staccò e cominciò a leggere. È una richiesta di soccorso, annunciò. Ganymede dice che è bloccato sull'Olimpo e che gli serve subito la coppa. Dice... Annabeth fece una faccia sconsolata. Oh santi nomi, Zeus non aspetterà domenica per dare il banchetto. Rimasi senza fiato, ricordando quello che Ganymede aveva detto sull'imprevedibilità di Zeus. Allora cosa? Ne organizza uno stasera? Peggio, mi rispose Annabeth. Zeus ha invitato sua madre per una riunione.